che può vincere in quest'anno lo scudetto e che succedono però verissimo il Liverpool campione del mondo e poi anche campione quale dei due successi ti ha emozionato un modo di conoscerti meglio eccoci attenzione perché abbiamo ricordato certo in questa sfera ci sono tante tante sfere appunto e tante palline il quadro sempre il brato strana di fare magari cosa aspettiamo a mettere la moviola in campo perché ne parlavo prima con Graziano della situazione dell'arbitro stasera o domani non lo so quando i sensi di colpa che avrà tutte canzoni che lei ha deciso di proporci a chi è praticamente dietro le quinte di un teatro e funiculì funiculà è la canzone del repertorio del mio papà che è tenore lirico ecco perché questa canzone mi ricorda la mia infanzia io sono nata praticamente con questo perfettamente d'accordo credo che sia un modo anche per passare il giorno dopo sicuramente in modo migliore anche questa può essere una motivazione riguardo appunto al gol di un tenore come tu ben sai oltre ad essere fatto quello canticchio diciamo che canticchio sai cos'è che nella mia famiglia mi hanno insegnato ad essere o perfetta nel mestiere che faccio oppure stare ballerina classica tu sai ballare? anche lì ballo per recitare sento che fuori dal campo ma tu puoi cercare di avere le immagini figurine? sì vediamo non me le perdo allora la prima a Perugia a fianco di Agroppi uno sbarbatello dove sono? non ci sono? ci sono sono un po' emozionata non me l'aspettavo è bello farsi vedere emozionata io lo so che tu è per me è un po' fatti cosa? sì no non me l'aspettavo io vorrei fare un cameo sai quelle lì che fanno sfocate dietro? che la riconosce solo la mamma e il marito? la serie B no? no aspetta 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 ricordi bellissimi ricordi belli stupendi aspetta aspetta poi è chiaro che Lucia allora Ferri grazie a Cesari grazie mille se le accavalla bene lei figurati la sorella sì è vero è sempre stato così ma semplicemente perché però hai sempre scelto bene questo va detto perché insomma i tuoi fidanzati sono stati notevoli ecco la signora Rossella le conosce già due